cari amici siamo sempre lì siamo sempre a parlare delle stesse cose ma io non mi stanco di ripeterle qui in italia abbiamo più di un problema con la democrazia ma uno dei problemi principali si chiama senza dubbio antifascismo l'antifascismo miete vittime tra i nostri giovani ogni giorno e dico vittime perché ingabbia le menti le veicola all'odio e alla violenza che vengono poi indirizzati contro l'avversario di turno contro il nemico di turno e tutto questo cosa cosa crea crea delle divisioni insanabili tra le persone tra la popolazione insomma la classica guerra tra i poveri e tutto questo si riduce alla soppressione della libertà di pensiero di espressione e di parola insomma censura censura della peggior specie volta però non soltanto non esclusivamente a zittire l'avversario ma soprattutto e questa è la cosa veramente grave a imporre il pensiero unico il gioco è fin troppo facile no quando si vuole danneggiare quando si vuole fare fuori l'avversario beh allora lo si etichetta come razzista o come fascista e poi la manovalanza una volta aizzata beh una volta aizzata la manovalanza fa il resto una manovalanza di menti deboli incapaci di sviluppare un proprio pensiero incapaci di analizzare criticamente i fatti i pensieri le parole e le azioni e pertanto incapaci di confrontarsi in modo magari anche acceso ma pur sempre civile perché dallo sport per arrivare alla politica l'avversario va sempre rispettato menti deboli incapaci di confrontarsi che temono a tal punto il confronto da negarlo da cancellarlo da sopprimerlo da volere impedire il confronto menti deboli che negano la democrazia in favore della dittatura e che oltraggiano con violenza e disprezzo la nostra stessa costituzione menti deboli incapaci di esprimersi se non per mezzo della violenza dell'insulto e dello sputo menti deboli e vigliacchi incalliti che agiscono in gruppo e solo se sono in tanti contro pochi che attaccano alle spalle che se la prendono con persone indifese perfino con le donne è successo ieri a firenze dove il sindaco di massa francesco persiani e l'assessore veronica ravagli sono stati aggrediti ed insultati mentre insieme alle loro famiglie si stavano recando ad una cena elettorale della lega a cui partecipava anche matteo salvini ci hanno circondato minacciandoci che ci avrebbero picchiato ci siamo impauriti perché eravamo soli poco fa sono stata aggredita fisicamente e verbalmente da un folto gruppo di cosiddetti democratici stavo andando alla cena della lega organizzata a firenze qui a pochi metri dal luogo dell'evento un gruppo di antagonisti ci ha dapprima offeso con insulti irripetibili e poi ci ha letteralmente messo le mani addosso sono stata spinta e gettata a terra mio marito è stato preso a sputi in faccia la stessa sorte è toccata al sindaco persiani e a sua moglie alessandra è forse questa la democrazia questo si chiama manifestare il dissenso questo ha solo un nome fascismo questi piccoli uomini che si permettono di alzare le mani su una donna e cercano di impedire con la violenza il libero pensiero sono i veri fascisti il vero pericolo per la democrazia che giornata buia per firenze una città dove il sindaco permette a soggetti già noti alle forze dell'ordine di manifestare violentemente contro le idee delle altre persone non vi nascondo che sono davvero scossa e spaventata ma forse ora ancora più determinata viva la democrazia e viva le persone come noi che ci credono ancora e lottano per questi ideali stop alla violenza viva la democrazia guarda caso ieri a firenze era stato organizzato un bel flash mob delle sardine e sempre guarda caso proprio a firenze per questo motivo erano giunti numerosi pullman provenienti dalle diverse città della toscana insomma eccovi servite le sardine anti salvini in salsa antifascista e non solo due consiglieri di firenze della lega ma alla fine di questa al termine della cena hanno ritrovato la loro macchina con uno specchietto rotto una affiancata a rigata e con una bella scritta contro la lega che schifo insomma come ampiamente previsto l'asino è cascato e probabilmente oltre a cascare si è fatto anche piuttosto male questa sarebbe la democrazia queste sarebbero delle persone che manifestano pacificamente ma adesso vediamo uno di questi pericolosissimi fascisti contro cui questi questi coraggiosissimi questi fieri squadristi rossi si sono scagliati andremo in fondo a questa storia dunque abbiamo deciso così perché non vogliamo lasciare impuniti certi personaggi che usano solo la violenza verbale e fisica perché io ieri mi sono ritrovata per terra e questo è un dato di fatto qualcuno mi ha spinto mi ha aggredito anche fisicamente è una cosa veramente intollerabile mai la violenza mai 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 veramente quindi spero veramente vivamente vengano individuati colpevoli niente per il resto continuerò a fare il mio dovere da assessore da cittadina sempre con maggior passione forse e avanti così non ci ferma nessuno viva la democrazia e buona giornata a tutti una donna fin troppo educata che è stata buttata per terra il cui marito è stato preso a sputi che appunto educatamente chiede giustizia e conclude con viva la democrazia già viva la democrazia quella cosa che in italia non esiste più perché è stata soppressa ora voglio vedere se qualcuno finalmente si porrà il problema dell'odio spacciato per antifascismo che la sinistra anzi l'autoproclamata sinistra progressista ed ultraliberista sparge a piene mani voglio vedere se qualcuno si indignerà se qualcuno adesso chiederà a gran voce una commissione contro l'odio e la violenza perpetrate sempre più frequentemente da sedicenti ambienti di sinistra o di estrema sinistra tra cui senza dubbio rientrano i centri sociali e gli anarchici i cui pluri pregiudicati esponenti sono sempre in prima fila negli scontri contro la polizia e le forze dell'ordine gli stessi ambienti che sono non solo protetti ma anche incoraggiati da svariati parlamentari del PD ma dagli stessi vertici del PD e non solo anche dai vari partitini e partituncoli di questa pseudo sinistra gli stessi partiti che difendono gli ex brigatisti che vanno a trovare gli assassini in carcere ma non si preoccupano di andare a trovare i familiari delle vittime e nemmeno nel caso in cui la vittima sia un carabiniere ucciso vigliaccamente e senza pietà sono gli stessi che salgono a bordo di navi fuori legge e che difendono manovre criminali compiute ai danni delle motovedette della nostra guardia di finanza il gioco è sempre lo stesso chiunque si ribelli al pensiero unico europeo pensiero unico di cui oggi Mattarella, Conte ed il PD sono senza dubbio i principali garanti anche se ormai sono seguiti veramente a ruota a strettissimo passo dai 5 stelle ebbene chiunque si ribelli al pensiero unico diventa magicamente ed istantaneamente un pericolosissimo razzista e fascista e un esempio lampante della manipolazione dell'informazione da parte dell'Unione Europea è il caso dei gile gialli i gile gialli francesi che manifestano pacificamente da 50 settimane però tutti i media, tutta l'informazione li ha immediatamente bollati come violenti ha sempre puntato il dito, il faro solo sulle violenze, sugli scontri contro la polizia e si sono affrettati appunto a definirli dei razzisti, dei fascisti e soprattutto anche dei nazisti ma la verità è che la quasi totalità dei gile gialli sono persone che manifestano pacificamente e lo ripeto manifestano più che pacificamente ma grazie ad agenti infiltrati, a provocatori infiltrati e con la complicità di tutti i politici, dei media e dei mezzi di informazione tutti i gile gialli sono diventati tutti dei brutti e cattivi fascisti pensate che perfino la deputata e relatrice della legge contro la manipolazione dell'informazione aveva pubblicato un tweet dove bollava i gile gialli addirittura come nazisti secondo il tweet il manifestante fa il saluto romano e quindi è di estrema destra peccato solo che quel manifestante stesse salutando, probabilmente non senza un certo sarcasmo proprio Macron insomma incredibile ma vero la prima spacciatrice seriale di fake news è proprio la deputata della legge contro le fake news ora ditemi voi dov'è la democrazia se chi è al potere da una parte fa di tutto per manipolare l'informazione e dall'altra sopprime con una violenza inaudita la sacrosanta protesta di un popolo che l'euro e le politiche scellerate dell'unione europea e di Macron hanno portato la disperazione e non è forse questo un regime? non è forse questa una dittatura? ma la cosa più subdola è che mentre una dittatura si presenta per quello che è cioè come un esercizio del potere che non ha nulla di democratico questi esseri immondi si presentano come i difensori della democrazia si mascherano di buonismo si presentano come animati delle migliori intenzioni peccato solo che come tutti ormai sappiamo le vie del male le vie dell'inferno siano lastricate proprio di buone intenzioni le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni siamo nell'unione europea siamo in una dittatura lastricata di buone intenzioni e chiunque si discosti da quello che ormai è chiaramente il pensiero unico beh allora va messo a tacere e questo va fatto sul nascere ed ovviamente va fatto con ogni mezzo e guardate che questo non è uno scherzo e non è nemmeno lo sfogo di uno youtuber non è nemmeno il frutto di una teoria complottista no 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 questa è semplicemente la nuda e cruda realtà nel dicembre 2018 il consiglio europeo con il consenso di un gongolante conte approvò il cosiddetto piano di azione contro la disinformazione e questo piano d'azione prevedeva metteva nero su bianco in maniera chiarissima e oltretutto utilizzando metodi coercitivi e totalmente in contrasto con la nostra costituzione beh sostanzialmente cosa diceva questo piano di contrasto alla disinformazione ovviamente sempre sul web beh sostanzialmente diceva di agevolare in tutti i modi possibili chi parlava, chi è a favore dell'Unione Europea di questo pensiero unico e agevolarlo significa per esempio agevolarne anche la visibilità agevolarne la divulgazione dei contenuti mentre invece chi si discosta o ancora peggio chi si mette contro, chi dissente da questo pensiero unico beh allora va messo a tacere e messo a tacere significa semplicemente tappare per esempio le visualizzazioni di un video bloccarne le condivisioni insomma impedirne la divulgazione dei contenuti un accordo tra l'altro sottoscritto da tutti i maggiori attori del web tra i firmatari iniziali vi sono le principali piattaforme online facebook, google, youtube, twitter i fornitori di software, mozilla, inserzionisti e una serie di associazioni di categoria in rappresentanza delle piattaforme online e dell'industria pubblicitaria ovviamente c'è molto molto di più ma scommetto che molti di voi non lo sapevano non ne sapevano niente e questo avviene perché nessuno parla di quello che avviene al Consiglio Europeo nessun media, nessun organo di informazione e quando ne accenna spesso lo fa anche in maniera forviante comunque per chi vuole approfondire l'argomento può guardare il mio video che si intitola Conte firma legge bavaglio dove trovate come sempre anche i link ai documenti ufficiali del Consiglio Europeo insomma anche qui sul web c'è la caccia al pensiero dissidente c'è la soppressione della libertà di espressione e della libertà di parola il potere controlla tutto tutto è asservito al potere il potere controlla l'informazione il web controlla l'istruzione la cosa pubblica controlla la giustizia le forze dell'ordine le forze armate eccetera 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 e tutte queste forze sono concentrate per sostenere il pensiero unico e per sopprimere definitivamente la libertà di pensiero e la libertà di parola e come se questi signori non fossero già abbastanza potenti come se non avessero già in mano ogni mezzo possibile e immaginabile ad agevolare questo pensiero unico talvolta ci si mette anche qualche deficiente che si mette davanti a una telecamera sul web e inizia a pontificare come se fosse un santone ammaliando magari quattro web ebeti che lo stanno a sentire e questo avviene perché purtroppo ci sono delle persone che hanno bisogno della loro vanna marchi e del loro mago donascimento e così con il pullolare di questi sedicenti canali di informazione indipendente sul web invece che il sale oggi si vendono parole anche se forse il sale di vanna marchi faceva meno danni ma purtroppo anche questo fa parte del degrado nel quale ci hanno condotto ed anche questo fa parte del loro piano un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio ciao a tutti 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 ciao a tutti